terza corsa premio Ridley Express tre anni al via sono in otto Ertisto Negett, Eloida, Easy Top, Eliott & Co, Eliott S, Elisa Ana e il Fuego Vitti in prima fila da solo in seconda fila con l'otto Einstein Grad 100 metri allo stacco della macchina parte molto forte Loisana e va a condurre, ha sbagliato invece Eliott S Elisana che comanda nei confronti di Eliott & Co all'esterno Ertisto Negett lungo la corda davanti a Eloida poi ancora il Fuego Vitti e più indietro Easy Top partito con prudenza così come Einstein Grad ha trovato posto in seconda posizione Eliott & Co e quindi adesso sono tutti in fila indiana ma muove dalla penultima posizione Easy Top offrendo la schiena a Einstein Grad questo anche sfruttando il rallentamento imposto da Elisa Ana quest'ultima guida nei confronti di Eliott & Co quindi Ertisto Negett paletto di metà gara nell'ordine del 59 e mezzo per Elisa Ana avvicinata da Easy Top quindi Eliott & Co e Ertisto Negett Einstein Grad all'esterno Eloida in co del Fuego Vitti accelerazione in e chilometro addirittura in 1.13.5 per Elisa Ana con all'esterno Easy Top poi ancora Eliott & Co ha spostato dalla corda Ertisto Negett allunga ancora Elisa Ana e mette in difficoltà Easy Top che retrocede rimontato all'interno da Eliott & Co poi Ertisto Negett Eloida per linea interna Einstein Grad Elisa Ana in vantaggio dalla sua scia sposta Eliott & Co a centropista a prova Ertisto Negett per linea interna cerca il varco Eloida è passato Eliott & Co nei confronti di Eloida che trova il varco dalla corda poi Ertisto Negett sbaglia Einstein Grad sul palo Eliott & Co davanti a Eloida e poi al terzo posto Ertisto Negett sul calo di Elisa Ana quarto finale decisamente più lento dopo un penultimo velocissimo 39 la chiusa è 1.58.4 sul mio cronometro media di 1.14 per la vittoria di Eliott & Co Antonio Simioli per Gasparello Verde i colori della scuderia Marocari per il successo del figlio di Victor Joe e Plaza Mahor che passa su Elisa Ana e poi controlla Eloida che dopo aver infilato bei varchi interni riesce anche a liberarsi dalla corda e sprintare e finire a mezza lunghezza dall'avversario al terzo posto col numero 1 Ertisto Negett che batte a sua volta Elisa Ana quindi 4-2-1 l'arrivo ufficioso della terza di Capannella in linea allo studio Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille